bentornati innanzitutto grazie mille grazie mille davvero grazie mille perché abbiamo finalmente raggiunto la soglia di 1000 iscritti che ovviamente un numero bassissimo per quei canali bestiali che esistono su youtube però per me è un piccolo obiettivo che mi rende particolarmente orgoglioso e se ci siamo arrivati è grazie a voi che vi siete iscritti che seguite il canale che interagite e che quindi mi date dei feedback anche su come migliorare le recensioni quindi grazie 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 non ve lo posso dire mille volte perché se no il video durerebbe un anno e sarebbe diciamo una pessima idea seconda cosa devo tagliarmi i capelli sono veramente impresentabile quindi devo tagliarmi i capelli lo so spero per il prossimo video di essere più presentabile ora per tornare all'argomento del video parliamo di grand'angolo spinto grand'angoli spinti sono un problema un problema e gli angoli spinti sono un tema da affrontare da maneggiare con cura perché perché si pensa che mettiamo il grand'angolo il grand'angolo ci faccio venire via tutto e la foto viene spettacolare perché tutto quello che vedo è bellissimo mettendolo tutto insieme sarà fantastico ma spesso non è così in fotografia tante volte premia il togliere piuttosto che raggiungere per cui il tema grand'angoli spinti va maneggiato con estrema cura possono aiutare possono aiutare tanto ma non non bisogna abusarne questo vale non solo per l'obitudine della nostra prova il laova 9 mm fd8 ma in generale per tutti i grand'angoli spinti che si trovano in circolazione ora grand'angolo spinto a cosa può servire un grand'angolo spinto gli utilizzi possibili sono infiniti possono servire per paesaggi per foto di interni per astrofotografia per sport quelle foto spettacolari nelle quali magari lo sciatore acrobatico ci passa sopra a 10 cm insomma gli utilizzi possono essere tanti ma reportage matrimoniali con un effetto particolare ovviamente non tutto il reportage ma qualche foto con un effetto un po' particolare ci può ci può stare insomma gli utilizzi sono diversi ed è difficile trovare un grand'angolo che vada bene per tutti insieme perché magari ci servono a ognuno di noi servono caratteristiche diverse che obiettivi diversi possono soddisfare ecco questa cosa diventa fondamentale da capire quando si parla di obiettivi particolari come questo ora per entrare dritti nell'argomento di oggi cioè il laova 9 mm fd8 possiamo dire che chiaramente un obiettivo molto atteso quando è stato annunciato soprattutto nella community fuji che dal punto di vista dei grand'angoli ha sempre sofferto di una mancanza perché al di là del 10-24 che è comunque uno zoom che è comunque f4 che comunque non è piccolissimo non aveva niente in quei range fino all'arrivo dell'8-16 mm ma quello è un fd8 molto grosso molto pesante spettacolare per carità ma non è certo paragonabile alla oa 9 mm fd8 quindi mancava un riferimento che potesse contrastare il regno del samyang 12 mm fd2 che per anni è stata l'unica alternativa di terze parti in quel range di focali ora bisogna rendersi conto che il laova 9 mm fd8 è un obiettivo completamente manuale non c'è alcuna elettronica quindi non c'è autofocus, non comunica con la macchina non avrete nelle vostre foto la lunghezza focale, non avrete i dati EXIF relativi al diaframma e tutto ciò insomma è qualcosa di cui tenere conto perché siamo ormai abituati alla comodità degli obiettivi digitali e quindi quando si sceglie un obiettivo di questo genere bisogna riadattarsi mentalmente nulla di tragico, si fa tutto e io lo faccio senza alcun problema però bisogna un attimino ragionarci su dal punto di vista della costruzione come detto l'obiettivo è completamente manuale non c'è elettronica, questo però lo aiuta a renderlo minuscolo come vedete su xt4 l'obiettivo è assolutamente minuscolo per essere un grandangolo di questa ampiezza focale ed fd8 e questa è una caratteristica da non sottovalutare dal mio punto di vista è una caratteristica fondamentale che mi ha reso molto interessato all'argomento per anni mi ha tenuto bloccato un'altra cosa che vi dirò dopo dicevo comunque costruzione metallica molto solida, sicuramente dà un senso di affidabilità nel lungo periodo molto elevata minuscolo quindi tascabile il paraluce anche lui è molto piccolo questo ha una contraddicazione di cui parliamo fra poco ma comunque in generale è una cosa positiva ha una buonissima ghiera della messa a fuoco molto fluida anche se dal mio punto di vista avendo provato il 12 mm di Samyang ritengo che la ghiera del Samyang sia fatta meglio sia fatta meglio non perché la sensazione in mano sia diversa ma perché rende più facile la messa a fuoco in quanto la corsa è un po' maggiore sulla ova quello che io un po' rimpiango è il fatto che da mezzo metro a infinito la corsa della ghiera della messa a fuoco è veramente veramente ridotta nemmeno un quarto di giro ma nemmeno è proprio veramente piccola e questo comporta che se si vuole una messa a fuoco molto precisa bisogna un attimino smanettarci un po' sul Samyang tutto ciò era invece più facile perché c'era molta più corsa fra il mezzo metro e l'infinito c'erano dei passaggi intermedi molto più chiari di contro la ova ha una molta corsa paragonata a quella che c'è fra mezzo metro e infinito fra la distanza di messa a fuoco minima che è i 12 cm praticamente siete dentro il soggetto e appunto mezzo metro in quel caso mettere a fuoco è molto facile e si riesce ad essere molto precisi senza particolari problemi la capacità di mettere a fuoco da molto vicino ha dei vantaggi dal punto di vista del raggiungimento di prospettive molto particolari se unite la distanza di messa a fuoco minima all'apertura f2.8 alla vignettatura di cui parleremo dopo si hanno delle foto che se sapute fare sono molto particolari e artistiche diciamo tra virgolette termine che un pochino fa ridere ma comunque tant'è parlando di angolo di campo il 9 mm su APS-C è un 13,5 mm equivalente quindi è un gran angolo molto molto spinto essendo un gran angolo rettilineare è una caratteristica non facilmente individuabile in altri obiettivi sì c'è il Fuji 8-16 ma come detto non sono paragonabili per tanti motivi quindi già dal punto di vista della progettazione è un'ottica che ha richiesto particolari sforzi ora se voi pensate che fra i 12 mm del Samyang e il 9 mm della OE ci sia poca differenza bene da questa foto vedete che la differenza comunque c'è e in alcuni casi fa la differenza fra il raggiungere quello che si vuole ottenere o meno motivo per cui io preferisco il 9 al 12 se devo dirvi la verità ma queste sono appunto considerazioni personali ognuno di noi ha le proprie un gran angolo di questa lunghezza focale comporta, e questo è indipendentemente dalla progettazione dell'obiettivo il rischio di distorsioni prospettiche evidentissime cosa si intende per distorsioni prospettiche? sono quelle distorsioni delle linee cadenti o le facce distorte se messe molto vicino all'obiettivo da non confondere con la distorsione a barilotto o a coscinetto che invece è una distorsione intrinseca dell'ottica e non della lunghezza focale ecco, questo è un obiettivo ne parliamo della qualità ottica che otticamente è molto corretto ma che non può sconfiggere le leggi dell'ottica se lo inclinate avanti o indietro le linee cadenti sono immediatamente dietro l'angolo altra cosa, stupida per quanto sia però da notare siccome come vi ho detto il paraluce è molto piccolo vedete, è minuscolo il rischio che si corre è che quando si inquadra siccome l'obiettivo è anche di per sé piccolo si rischia di mettere il dito qui ebbene, quando mettete il dito qui viene nella foto lo state vedendo adesso quindi bisogna farci un attimo di attenzione in più per evitare questo tipo di problema dal punto di vista della qualità ottica l'obiettivo è, come detto prima molto corretto otticamente quindi non ci sono distorsioni evidenti dal punto di vista ottico e questo è già di per sé un risultato eccellente per un'ottica del genere anche perché non è corretta elettronicamente come potrebbero essere altre questo è tutto manuale quindi se è corretta, è corretta di suo come quasi tutti i grandangoli in questo range è soggetta a flare e ghosting perché il sole spesso viene dall'inquadratura e quando ci viene diciamo fa i suoi danni detto questo però spostandosi di poco dal punto di vista dell'angolo di inquadratura si riesce a mitigare il problema e quindi si riesce a venirne fuori abbastanza bene devo dire che non è un'ottica perfetta da questo punto di vista ma con un minimo di gestione si riesce a risolvere il problema dal punto di vista invece della nitidezza un'ottica molto nitida a f2.8 al centro ai bordi invece soffre un po' e bisogna chiudere il diaframma per migliorare anche se ai bordi non si arriverà mai alla qualità ottica che si ha al centro in più ai bordi soffre di una vignettatura evidentissima a f2.8 che va migliorando man mano che si chiude il diaframma ma che non compare mai quindi altra cosa da tenere in considerazione ora io ritengo che entrambe queste cose abbiano a che vedere con le dimensioni fisiche dell'obiettivo un obiettivo così piccolo da qualche parte doveva andare a a tirare la coperta quindi lo fanno piccolo probabilmente ai bordi non è perfetto la coperta è sempre corta da questo punto di vista per farlo perfetto ai bordi magari sarebbe venuto fuori un obiettivo più gigantesco ecco sono compromessi bisogna vedere ognuno di noi cosa considera importante detto questo detto di tutti i difetti che ci sono dal mio punto di vista dall'atto pratico sono difetti che non compromettono l'utilizzabilità delle foto ecco anche in stampa abbastanza grandi l'obiettivo va benissimo quindi è giusto parlarne ma è giusto anche non perdersi nel pixel peeping anzi in italiano nel pixel peeping perché magari si scatta ed è meglio invece di stare a controllare ogni linea di nitidezza nei bordi altra cosa da considerare l'obiettivo è soggetto a quello che viene detto field curve cioè che significa significa che in teoria inquadrando da qui il piano di messa a fuoco se questo è il mio obiettivo il piano di messa a fuoco dovrebbe essere un piano esattamente perpendicolare all'inquadratura obiettivi di questo genere soffrono di una specie di curvatura del piano di fuoco per cui se mettete a fuoco al centro magari ai bordi l'obiettivo risulterà la foto risulterà leggermente fuori fuoco dal punto di vista dell'atto pratico tutto ciò comporta problemi soltanto in casi specifici nel senso se scattate a tutta apertura ad un piano che deve essere tutto a fuoco ecco magari potrebbe essere un problema oppure se avete un soggetto sul bordo ecco magari mettete fate in modo che l'inquadratura sia che la messa a fuoco sia centrata sul soggetto attentamente perché non bisogna dare per scontato che anche se sono sullo stesso piano le cose siano tutte a fuoco detto questo però è anche vero che è un obiettivo del genere mettere l'inquadratura diciamo il soggetto sugli angoli comporta delle distorsioni evidenti o prospettiche e quindi diciamo magari non è una grandissima idea comunque quindi ritengo che il problema ci sia ma non sia insormontabile e anzi nell'uso quotidiano ci si può passare sopra dal punto di vista del video per quanto sia un obiettivo manual focus non elettronico non stabilizzato tutto quello che volete se utilizzato con una certa accortezza risulta abbastanza abbastanza usabile io l'ho usato su X-T4 per esempio per una gara di mountain bike e unito alla stabilizzazione della della fotocamera mi sono trovato con dei filmati soprattutto in slow motion decisamente utilizzabili e con prospettive particolari ero praticamente dentro la bici dei corridori chiaramente essendo un obiettivo manual focus bisogna stare attenti a dove si mette a fuoco ecco questo è un processo mentale che bisogna tenere in conto però detto questo l'obiettivo pur non essendo nato per fare video ecco ma risulta abbastanza usabile a patto di conoscerne l'utilizzo che si deve fare e come utilizzarlo al meglio dal punto di vista del vlogging ammesso di voler fare vlogging un obiettivo manual focus trovo che la stabilizione su X-T4 ai bordi estremi sia un po' complessa nel senso che ha degli artefatti sembra è brutta da vedere quindi in teoria è un obiettivo che non andrebbe benissimo da questo punto di vista però mi sono reso conto che attivando la stabilizzazione digitale il problema si risolve quasi del tutto e quindi si ha un minimo di crop ma con una resa tutto sommato gestibile come state vedendo in questo momento per cui ammesso di voler fare vlogging con obiettivo manual focus questa è una scelta da non scartare in generale quindi dal punto di vista del video si può usare a patto di conoscerne le caratteristiche i difetti e l'utilizzo che se ne vuole fare in conclusione quindi cosa possiamo dire di questo obiettivo è un obiettivo che per quanto abbia dei difetti come tutti d'altra parte è un obiettivo molto interessante soprattutto perché ripeto dimensioni così su un grandangolo così spinto non se ne trovano facilmente e permette di portarlo con sé quindi parliamo di un obiettivo praticamente tascabile che invoglia ad averlo con sé mentre se dovesse avere un 8-16 per quanto migliore otticamente è sicuramente spettacolare ma non lo porterei con me quasi mai per cui dal mio punto di vista per quello che faccio io ho preferito un obiettivo di questo genere ma minuscolo ad obiettivi molto più grossi e pesanti che probabilmente nel mio caso resterebbero a casa la maggior parte del tempo ovviamente tutto ciò è molto personale chi cerca la qualità massima probabilmente cercherà altro chi non ha problemi di portabilità magari o non gli serve l'F2-8 o magari si butterà sul 10-24 scelta comprensibilissima infatti diciamo io ho preferito questo ma è una mia scelta personale non sto qui a dirvi che è una scelta che dovete fare tutti perché non è così ognuno di noi per fortuna la pensa diversamente è chiaro che se siete interessati ad un obiettivo del genere l'enorme dubbio che dovreste avere che dovreste sciogliere è quello di capire se siete pronti ad usare un obiettivo completamente manuale dal mio punto di vista su un grandangolo questa cosa è questo problema è un problema secondario perché è facile avere tutto a fuoco perché normalmente scattiamo diaframmi chiusi perché è un obiettivo facile da mettere a fuoco tutto sommato e quindi non mi preoccuperei tantissimo non mi preoccupo tant'è che ce l'ho l'ho preso e lo uso però ognuno di noi ha esigenze diverse quindi bisogna capire prima di ogni cosa se siamo pronti a questo genere di utilizzo dell'obiettivo detto questo direi che sull'obiettivo abbiamo detto tutto io vi ringrazio ancora per esservi iscritti vi chiedo di iscrivervi se non lo siete ancora se vi è piaciuto il video di lasciarmi un like di commentare qui giù farmi sapere cosa pensate dell'obiettivo cosa pensate se siete interessati se avete altre domande a cui non ho risposto nella recensione insomma fatemi sapere mi piacerebbe come dico sempre che si crei si creassa una community nella quale ci scambiamo opinioni e ci aiutiamo a vicenda bene direi che per oggi è tutto grazie e ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.